diciamo la verità le donne della pubblicità sono spesso irreali mettono in scena l'idea che gli uomini hanno di noi immagini che non ci sono amiche ma oggi possiamo farci sentire segnala spot programmi tv e siti web che raccontano noi donne vere e rispettano la nostra identità scopri come su internet immagini amiche dai voce le creatività socialmente responsabile iscrivi le tue preferite fino al 31 gennaio e dal primo febbraio puoi votarle facciamoci sentire